Buongiorno a tutti da LassoNelamanica.com Oggi sono felice di andarvi a mostrare le novità in vendita al nostro store di questo mese Mostrandovi innanzitutto il mio nuovo bigliettino da visita Guardate che belluccio da una parte, ve lo mostro anche dall'altra LassoNelamanica.com Ovviamente per voi online vendita di giochi di prestigio e mazzi di carta Innanzitutto abbiamo già visto il tappetino da street magic rosso Bellissimi tappetini, sono morbidi, morbidi, sono facili da trasportare, sono pieghevoli, arrotolabili e non si spiegazzano mai Abbiamo già visto questo rosso vellutato molto bello Oggi vi vado a mostrare anche il tappetino blu Tappetino blu, anche questo guardate che bei colori che si ritrova Va sempre morbido morbido e adatto a essere trasportato, a essere spostato, a essere poggiato Dove vi può capitare appunto un tappetino da street magic per voi Oh qua un bel arcobaleno Un arcobaleno di novità per quanto riguarda le carte Potrete vedere innanzitutto qua sotto una bella schiera di tellio di molti colori Andiamo dal nero, rosa, rosso, viola, giallo e arancione del modello fanback E l'azzurro, verde, viola, nero, giallo e rosa del modello invece circleback Le tellio sono rimaste favorevolmente colpite la prima volta che le ho recensite Proprio perché anche appena aperto questo tipo di carte, appena aperto il pacchetto Si nota subito, come le prendete in mano, che la finitura della carta è diversa Le tellio usano sempre la Linoid Finish Che è un'ottima finitura che dà una patina scivolosa sulla carta Sembrano quasi vellutate in mano Per cui ve le consiglio tutte quante Tutti e 12 i modelli sono edizione limitata E per voi li metterò in vendita con un prezzo speciale Poi andiamo a vedere da questa parte cos'altro abbiamo trovato Eccola qua, guardate che belli, due cavalli contrapposti Simbolo delle carte Night Dopo quelle dorate, quelle rosse, un po' più classicheggianti Un miglior prezzo rispetto alle prime Stesso modello di carta, una bella evoluzione Comunque ho notato che vi sono delle differenze tra il vecchio modello e questo nuovo Poi, papilio Anche queste delle bellissime carte Tema farfalla Guardate che bello anche solo quello che poi è l'immagine dell'asso di picche Formato da varie farfalle gialle che svolazzano Anche questo molto bello Come molto belle sono anche le grafiche delle nuove hedge Bellissimo già il pacchetto Ancora più belle le carte Tra le novità poi troviamo pacchetto bianco, pacchetto nero delle Templar Anche queste ancora non le abbiamo recensite E presto andremo a vedere che cosa contiene questo pacchettino di carte Promettevo molto bene dalle foto che ho trovato online Per cui mi sono deciso a prenderla Molto richieste per voi Visa Visa blu, Visa rosse Vi lascerò sempre il link in descrizione per arrivare sul mio sito Dove troverete appunto anche le carte Visa Molto richieste Tra le novità andiamo a trovare anche le Love Heart Che accoppiate fanno questo bellissimo effetto L'ho preso tempo a dietro Quando andavo a lavorare nei matrimoni Li portavo proprio come regalo agli sposi Da parte del malo direi che sono piuttosto azzeccate Poi libri fondamentali per iniziare a imparare un po' di magia seriamente Partiamo da Aurelio Paviato Carte e monete unisce assieme la carta magia e la moneta magia In numerose routine giochi d'avanguardia Aurelio Paviato vi ricordo è stato comunque campione del mondo A livello close up Per cui non è l'ultimo degli arrivati Un po' di sana magia italiana Con Aurelio Paviato Abbiamo messo in vendita anche questo Variando totalmente il genere Un po' di mentalismo per voi I gradini di Corinda Abbiamo i 13 gradini divisi in due tomi Uno che parla dei gradini Uno barra sei Suami, gigmic, lettura di matita, labbra, suono, tatto e muscolare Mnemonica e sistemi mentali Predizioni, bandere occhi a raggi X Bigliettini Seguito ovviamente dal volume 2 Gradini 7, 13 Che parla di book, test, telepatia, due esperimenti medianici Effetti con carte e domande, risposte, letture Pubblicità, testo e presentazione Introduzione del grande Tony Binarelli Se volete entrare nel mondo del mentalismo Queste sono le basi Per quanto riguarda la monetomagia Il Bobo Il Bobo è il volume più completo Come il Card College per le carte Il Bobo per le monete Bobo volume 1 Per andare ulteriormente a imparare tecniche nuove e diverse e più approfonditamente Il Bobo volume 2 Poi un po' di effetti per voi Uno, due e una tre Cosucce artigianali Partiamo da questi simpatici cosini che ho trovato Erano in auge tempo addietro nell'ambito della magia E li ho ritrovati E volevo riproporveli con un gioco personalizzato Non quello classico che potete trovare Con questi piccoli stature lavandini Ma qualcosa di nuovo Che riprenda lo spirito di questo giochino Se non l'avete ancora visto Iscrivetevi al mio canale Attaccate la campanella Perché presto vedrete che gioco vi vado a proporre Altre cosucce Sempre effetti creati da noi Novità assoluta Dunque cose che trovate solo e solamente Sulla solamanica.com Un nuovo gioco che ho chiamato Cuore di Donna Molto carino Un po' che trick Che va a unirsi a un mazzo regolare Per formare proprio una routine completa Molto carina, veloce e pratica da trasportare Fase numero 2 Anche questo molto molto bello Mastercard Di cui potete vedere Mi sono avvalso della bravura grafica Di un mio amico Della Sardegna Un ragazzino che ha una grande mano Che mi ha aiutato per realizzare le grafiche di questo gioco Vi lascerò qua sotto in descrizione Anche il suo link Per il suo canale Appena 14 anni Ha una mano Un talento Non indifferente Mitch Che pratica sia magia che disegno Ecco queste sono i suoi talenti Invito ad andarvelo a vedere Dunque ragazzi miei Spero che anche la merce di questo mese Sia di vostro gradimento Se non la trovate immediatamente in vendita Vuol dire che comunque sta arrivando Questo è tutto Per cui vi saluto Vi ringrazio E alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti